Il bello e il cattivo tempo, torniamo al Teatro Golden dove finalmente, dopo i successi stratosferici di Milano, Ferrara, Civi... Siamo amici, siamo amici. Il conto è servito da stasera, anzi dal 28, ma stasera diciamo è la prima ufficiale, al Teatro Golden di Roma fino al... 12 febbraio, forse 13.50. C'è delle proroghe? Forse c'è delle proroghe. C'è area di proroghe. Me la senti? Siamo pieni quindi quello che stai facendo non ci serve a niente, va bene? Va bene, ok. Si arriva anche la regista qui da dietro, io faccio una bella cosa perché ho il terrore a gestirli tutti. Siamo veramente bravi. Paola Tiziana Cruciani, eccola qua. Io siccome ho il terrore a gestirli, non sono bravo, lascio il microfono alla regista e lei fa tutto quanto io non... No, no, lontano perché questo ha una particolarità, prende pure le mosche là fuori, quindi così va benissimo. Sembra un anno di intrudere. Io me ne lavo le mani di questa intervista. Ma che volete sapere? Vuole sapere il significato della commedia, il messaggio che noi mandiamo sociale. Che bisogna ridere, bisogna ridere, sorridere di tutto, della vita, dei potenti, di chi vuole i piaceri dagli altri. Bisogna ridere e siccome qui, guardate le facce, se non fanno ridere questi, ma chi fa ridere? Cioè, guarda, facciamo... cioè, dai, abbiamo facce che fanno ridere? Spero che sia un complimento. Queste facce da ridere, vi dicono che se volete ridere dovete venire a teatro a vedere Il Conto è Servito, al Teatro Golden, fino a... 12 febbraio, forse 13 e 14. Se venite, facciamo pure 13 e 14. Presentiamo tutto il cast. Allora, Andrea Zanacchi, Roberta Garzia, Alessandra Schiavone... Ni! Perdono! Tutta la vita, da quando è piccola che era? Barbara Abbondanza, Martina Carletti, Simone Villani, Lautrice Sara Vannelli, Prego, si incomodi! Eh, beh, va bene! Nigno, Formicola! Nigno! Nigno! El Corrado, Tedeschi! Ciao! E niente, la mia ignobile regia, Paola Deziana Cruciani. Venite! Ecco, è tutta una sorpresa questo spettacolo. Cioè, è una sorpresa... Ovvio! Ma certo! È tutto un colpo di scena! Non c'è una sorpresa per noi, ma non c'è lo spettacolo. Nulla è quello che sembra. Tante volte anche noi veniamo sorpresi di giochi a casa. Ma che dice? Quindi, l'importante è venire, avete tempo fino al 12 febbraio, siamo sotto carnevale, se non venite vi vengono a fare lo scherzo a casa, ve lo dico. Dopodemoridà che ci abbiamo un po' paura. Sì, sì. È un vibratore e un rasoio. Sì, infatti, è anche un teaser. È un teaser. L'uno è molto utile, l'altro è... Il cavatappi è molto utile. Allende le perle, gli tedeschi. Va bene. Il bello e il cattivo tempo, vi aspettiamo. Ciao, ciao! Ciao! Ciao!